Salve, salve da Marco Calabro per conto di Alleanza Mobilieri. Ci troviamo oggi a Roma, siamo da Spazio Design, un punto ventida che già abbiamo visitato e stiamo vedendo un prodotto di un'azienda che è sempre stata di riferimento del mercato italiano. Stiamo parlando di Lema. Il prodotto che stiamo vedendo è una parete che si chiama Selecta e una parete che ha la struttura tutta quanta verniciata ad acrilico, ad acqua e le ante della struttura sono in rovere, un rovere che viene, lo stiamo vedendo qua, che viene praticamente, stiamo parlando quindi di rovere evidentemente, di massello di rovere, un rovere che viene scavato per creare la maniglia. Quindi una maniglia che sta all'interno dell'antina e che allo stesso tempo sta creando movimento al mobile, perché evidentemente il colpo d'occhio che dà l'antina sicuramente è elegante ed importante, oltre al fatto evidentemente di parlare di massello. La struttura, in questo caso la parete che ci sta presentando, Spazio Design Roma, ricordiamoci che Spazio Design sta in Via Cristoforo Colombo al 448, che ci sta presentando Spazio Design Roma, è sicuramente una protoposta piuttosto ampia, piuttosto larga, però consideriamo che come tutte le pareti di questo tipo il prodotto viene realizzato in funzione delle necessità dell'utente, quindi in base alle misure che si hanno in casa. Il colpo d'occhio complessivo, lo abbiamo visto poc'anzi, quando ho cominciato il video, il colpo d'occhio complessivo del prodotto è veramente elegante, gradevole, e stiamo parlando sicuramente uno dei marchi che propone il design italiano nel mondo. Grazie sempre per ascoltare Alleanza Mobiliere e arrivederci al prossimo video.